Ciao a tutti, sono qui con il primo album di Jungkook. Ho preso tutte e tre le versioni grandi, più quella piccola, e questo è il pre-order di Weverse. Inizio a farvi vedere quella piccola. Tra l'altro sono bellissimi. Allora, anzi, inizio a farvi vedere quelle... non lo so, quella piccola direi. Sì, quella piccola. Aspettate che restringo un po' la visuale. Ok, questa è la versione più piccola, non mi ricordo come si chiamavano le varie versioni, ma ve lo scrivo. Ok, aspettate che io non so dove sono le photocard. Ok, questo è il mini photobook. Comunque l'album è pazzesco. Ammetto che è molto americanizzato, ok, però ragazzi adesso loro devono vendere anche in quel mercato lì, soprattutto i BTS. C'è poco da fare. Mamma che bello, con la felpa grigia. A me non dispiace questo adattamento. Poi le canzoni sono davvero di qualità, quindi ci sta. Mamma mia, che cosa diventa. Che rompata, Dio. Io spero si veda perché non è, c'è tanta luce oggi. Crediti. Ok, questo è il mini photobook. Poi abbiamo questo. Vediamo se riusciamo a aprirlo senza fare danni e senza spaccarlo preferibilmente. Ok. Qui abbiamo Questa. La guida. La postcard. La postcard. E questa era la prima versione, quella più piccola. Forse vi faccio vedere le altre tre più propositivi diversi. Allora, qua in qua. Iniziamo. Quella blu. Riusciamo a fare. Questa. Ok. Questa è la prima versione blu. Non so se è la prima in realtà. L'ho presa a caso, random. Ah, guardate qua che c'è scritto la versione. Ok. 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 Mamma, quel braccio datuato. Aspetta, mi metto comoda. Che bellezza. Ci sono le tracce. Ok. Poi. Ok. Abbiamo. Ci sono le foto. Il poster. E' bello, 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 bello. Abbiamo questi due adesivi. Il cd. Classico fogliettino reverse. Due postcard. E due fotocard. Allora, questa. Mamma mia. Bellissima. E questa. No, vabbè, adoro. Vabbè. Poi. Andiamo avanti, se no ci impieghiamo sei anni. Io ci impiego sei anni. Allora, questa è la versione, ve lo dico subito, solid. C'è quella bianca. Io ci impieme. Grazie a tutti. Mamma che bella questa. Crediti, ringraziamenti, fini. Oh, scusate. Allora, posta. Cd. Abbiamo i due adesivi, se riesco a prenderli. Che sono identici. Non riesco a prendere niente. Costighe. Ok, già fatta. Abbiamo. Fogliettino Uviverse. Vedo postcard. Una è questa. E l'altra è questa. Dobbiamo. Questa. 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 Bellissima, anche questa. Questa. Poi. Io faccio vedere la terza versione e l'ultima. Questa. 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 Ehi 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 Ok Poster Adesivi Poi Tieno i verse Il cd Postcard E Le foto Allora Questa E Oh Adesso mi sa che l'ho già trovata questa Mi pare di sì E questa Adesso vi metto tutte le foto carini Ah no aspettate ho anche il preorder di Weverse da farvi vedere Ok un attimo che adesso vi faccio vedere anche il preorder di Weverse Allora Ci sono questi che sono quelli da attaccare Ehm Dietro la pepera del telefono Allora Oh Questo è anche regato Regato sì Ah no Sulla pellicolina da togliere Vabbè C'è verde Blu E bianco C'è la pellicola Sì C'è la pellicola da togliere Comunque questi tre E poi abbiamo Questo pacchetto Che c'è questo standy olografico Questa E questa Ok Vi metto insieme tutte le foto carini Ve le faccio vedere tutte insieme E queste sono tutte le varie postcard E le varie foto carini Ho trovato questa doppia Che Cercherò di scambiarla Non so se ne manca ancora qualcuna Per completare il set Dovrei guardare sulla lista Comunque questo è tutto quello che c'è all'interno di tutte le versioni Bene per questo unboxing è tutto E noi ci rivediamo in un prossimo video Ciao Mi sono dimenticata di farvi vedere questa Che è quella della versione piccola Quindi queste sono tutte le foto carini insieme Ciao 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 Ciao